Oggi è sabato 6 giugno 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 6 giugno 1971. Alle 7.55 minuti e 9 secondi del tempo coordinato universale viene lanciata nello spazio dalla rampa Gagarin del cosmodromo di Baikonur, in Unione Sovietica, la Soyuz 11. A bordo tre cosmonauti, il comandante Georgi Dobrovolowski e gli ingegneri Viktor Pakayev e Vladislav Volkov. La loro missione è realizzare per la prima volta un aggancio permanente con la stazione spaziale Salut 1. Durante la permanenza a bordo, un incendio danneggia irreparabilmente un telescopio, necessario per gli esperimenti scientifici, per cui il controllo di missioni a Terra dispone dopo 23 giorni il rientro anticipato di una settimana dell'equipaggio. Alle 18.28 del 29 giugno, i cosmonauti, tornati a bordo della Soyuz, eseguono la manovra di sgancio dalla stazione. La procedura di rientro è automatizzata e la navicella teleguidata a Terra regolarmente. Ma quando la squadra di recupero apre la capsula, trova i cosmonauti morti. I tre sono quindi, a tutt'oggi, gli unici esseri umani per i quali il luogo di decesso è lo spazio. Tutti gli altri incidenti mortali in missioni spaziali si sono infatti verificati a Terra o nell'atmosfera. Le indagini accertano quanto successo. Le componenti metalliche articolate che tenevano agganciata la capsula alla stazione spaziale avrebbero dovuto saltare con piccole cariche esplosive una alla volta. Ma, per errore, erano esplose nello stesso momento, dando una spinta così forte da determinare l'apertura della valvola di scarico dell'aria, che avrebbe dovuto invece aprirsi in prossimità dell'atterraggio per equilibrare la pressione interna a quella esterna. Su una mano di Pakayev vengono rilevate diverse ferite. Aveva tentato di chiudere la valvola che stava scaricando nello spazio tutta l'aria contenuta nella naricella con una manovra manuale d'emergenza, prima di perdere i sensi per l'ipossia. Ai funerali dei tre cosmonauti, anche gli acerrimi rivali americani nella corsa per la conquista dello spazio inviano in rappresentanza un loro astronauta, Tom Stafford, che quattro anni dopo comanderà la missione congiunta Apollo-Soyuz con aggancio in orbita tra le navicelle americana e sovietica. Da allora le missioni spaziali sovietiche prevedono solo due cosmonauti a bordo, per avere lo spazio necessario perché indossino tute pressurizzate nelle fasi più delicate. I tre deceduti non avrebbero dovuto volare. Erano l'equipaggio di riserva, subentrato solo tre giorni prima della partenza a quello originariamente incaricato perché il comando di missione aveva sospettato che uno dei cosmonauti titolari si fosse ammalato di tubercolosi e avesse contagiato i due compagni. Ma il sospetto si era poi rivelato errato. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, dodici minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini. Sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri dodici minuti di oggi. Buona giornata.